La Corsa dei Due Mari arriva nella provincia di Pesaro Urbino. È tutto pronto per la sesta tappa della Tirreno Adriatico, che sabato 12 marzo porterà il meglio del ciclismo internazionale nella tappa a Pecchio Carpegna. La penultima della competizione, la più impegnativa e probabilmente la più bella in una provincia di Pesaro Urbino, che si mette in vetrina per 206 km della competizione, che partirà da Pecchio alle 10.75 per poi toccare in serie i comuni di Piobbico, Acqualagna, Fermignano e Gola del Furlo. E poi ancora Fossombrone, Cartoceto, Lucrezia, Carrara di Fano, Monbaroccio, Monte Ciccardo, Sant'Angelo in Lizzola, Gallo di Petriano, Urbino, Casinina, Mercatale, Lunano e Frontino, fino alla gran finale con anello del Monte Carpegna da ripetere due volte con punte del 14% di pendenza nella scalata al Cippo Pantani. Un lungo percorso, un enorme dispegno di ordine pubblico per i comuni coinvolti, che negli ultimi giorni hanno prodotto una pioggia di ordinanze per informare la cittadinanza in merito alle centinaia di strade che verranno chiuse al traffico e alla sosta. I numeri dell'evento sottolinano la portata della corsa a Tirreno Adriatico. 175 ciclisti, 25 squadre, 170 paesi collegati in Mondovisione, 70 giornalisti accreditati, 250 auto al seguito, 25 pullman, 18 staffette della polizia stradale. Al traguardo di Carpegna ci si prepara dunque all'accoglienza. Chiaramente il meteo ci sta in questo momento favorendo, dopo previsioni giorni scorsi che sembravano catastrofiche, invece sembra che vada abbastanza bene. Chiaramente però la strada l'abbiamo dovuta liberare, la stiamo ancora liberando perché era coperta da manto nevoso, però sembra che riusciamo a fare tutto e poi ci sono tutte le contromisure da prendere per rendere sicuro il percorso per i ciclisti, quindi chiudere le varie vie di accesso alla strada principale, allestire il podio, allestire l'arrivo. Insomma diciamo che da fare in questi giorni non ci manca, però è un lavoro sinergico tra l'amministrazione comunale, il comitato Tappa, Proloco eccetera, quindi stiamo riuscendo a fare tutto e speriamo che sabato si svolga tutto nella maniera migliore.